buondì allora io di torrens di 100 126 mk2 elettroniche questo qui è il secondo questo qui l'ho comprato non molto tempo fa perché aveva un problema che si era staccato il perno dalla e il negoziante gli ha detto guarda che comprare il perno una roba e l'altra più a revisionarlo così ti costa un sacco di soldi ti conviene prendere più tanti soldi possibili perché dopo alla fine anche quando tu ti tieni questo giradischi e ci ha speso i soldi tanto vale che tu cerchi di prendere più tanto possibile vendendolo e aggiungi un po di differenza almeno sai di avere un giradischi perfetto quel signore lì giustamente ha detto sì è giusto che sia così va bene bla bla perfetto oddio per carità a me va bene allora ha trovato me nel suo percorso e io l'ho recuperato a 300 euro questo giradischi torrens cos'è che aveva questo giradischi come nel video precedente che vi ho fatto vedere che li ho che li ho sbussolato il perno ho fatto due fori laterali con la punta da 3 millimetri gli ho fatto due filettature con la filierina del 4 ho messo dentro il perno in modo da farlo lasciare fuori dal piano dove c'è l'unghia fino all'apice di 35 millimetri qui ho ricontrollato che ci sia dentro la sfera perché giustamente sicuramente l'avranno tirato su e giù 50 volte difatti noi guardiamo che questo giradischi qua grattava da tutte le parti infatti a continuamente a furi tirarlo su tirarlo giù l'hanno rovinato e hanno segnato anche la parte posteriore del mobile perché col peso del piatto è andato un po tutto a puttane no allora io adesso siccome che la sabbia grigia ce l'ho come colore adesso intanto vedo che funzioni tutto poi smonto questo signore questo piattellino qui lo rivernicio poroso com'è e lo metto a posto bene perché giustamente è giusto che sia così e prima di fare tutto questo ho fatto questo lavoro qua di incamiciare nuovamente il perno perché questo qui continuava a cadere praticamente cosa succedeva che il perno questo qui si era sbussolato da questo piattello qua no e il piattello ora lui continuava a tirarlo fuori continuava a spingere giù e poi continuava a metterlo dentro e dopo il secondo disco questo qui continuava a cadere perché non c'è solo questo ma c'è il peso anche di tutto questo signore che peserà qualche chiletto insomma cioè non è che pesi pochissimo no allora questo signore qua scendeva da quello che è il perno perché il perno quando è appoggiato in fondo più in fondo di così non va ma era tutto questo però questo perno da 7,2 mm è quello che in definitiva tiene su tutto quanto e quindi tutto quanto scendeva allora io avendo fatto i fori una roba e l'altra praticamente l'ho l'ho fissato parte per parte con due viti in modo che da questo momento qua in poi non avrà più problemi di di scendere stiamo qua a vedere fin dove finisce perché io praticamente gli ho fatto una centratura che insomma neanche in fabbrica li la fanno così bene andate tranquilli e di fatti questo qui anche se non è collegato né niente questo qui continua questo qui col peso che ha il piatto continua a reggere il disco fino fino alla fine andate tranquilli eccolo qua guardate così prendiamo così ecco ecco quando andrà quell'altro piatto che vi faccio vedere qui ho fatto un piccolo segnetto qui che corrisponde a questo piccolo segnetto qua così eccolo qua avete visto perché ecco questo questo qui pesa 3-4 kg più il peso di quelli tutto 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 è a cavallo tutto grava su quel pernettino lì perché tutto quel peso lì dopo andava adesso ve lo spiego un attimo che metto giù questo fa che pesa perché tutto il peso del piatto più dopo il tappetino che anche lui peserà quasi un chilo e più il disco e più la gente che ci mette il disco eccetera eccetera questo pernettino qui era quello che soffriva da matti e di conseguenza tutto un po' alla volta si è abbassato perché questo qui glielo mettono dentro in fabbrica a secco con la pressa perché questo qui è 7,21 mm loro gli fanno il foro nell'alluminio di 7,18 in modo che ci siano qui tre decimi in modo che quando mettono dentro questo qui con la fresa diciamo con la pressa questo qui sfrasi e non si muova più ma non si muove più finché non si muove più ma dopo col tempo siccome che sono due materiali che non si amano quindi non si ossidano assieme e di conseguenza quando che col tempo una roba e l'altra col peso col peso questo qui va giù e per fortuna che questo qui essendo lucidissimo lo lascia scendere e quando questo qui questo piatello qua più questo piatello qui con l'arco degli anni del tempo va giù e in più quello grosso comincia a grattare da tutte le parti perché a questo punto qui comincia a grattare qua contro e allora quando succede che o andate a far revisionare questo ma siccome che il perno dentro del disco rimane sempre 7,2 mm il problema grosso rimane il piatello questo qui in alluminio perché è questo qui che dopo dovrà essere maggiorato se vogliamo metterci un perno più grosso e quindi non vale più la pena invece mantenendo sempre il suo originale mantenendo sempre il perno del disco e anche praticamente il piatello basta farci i due fori avvitarci le due viti e questo qui rimarrà perenne per tutta la vita così adesso perché questo qui non si muoverà più perché se dopo vi accorgete che questo qui è magari un po' più alto di un millimetro un po' più basso cos'è che fate voi? voi svitate le vitine e con un martellino in gomma spingete in su o in giù il pernetto in modo da recuperare quel millimetro in su oppure quel millimetro in giù basta chiuso e dopo stringete un'altra volta le viti e da quel momento qua in poi vi posso garantire che per tutta la vita per i prossimi 4-5 nipoti che avrete dopo questo qui non si muoverà più perché l'avete bloccato meccanicamente stavolta non è più pressato a macchina avete capito come? buono ragazzi con questo secondo video vi ho fatto capire due cose la prima di non farvelo mettere nel culo da quelli che riparano i giradischi perché vi fanno un lavoro del cazzo oppure ordinano questo qua nuovo e vi fanno mangiare fuori il giradischi solo in ricambi perché dopo alla fine già che sei qui cambi questo ma già che ci sei cambiamo 50 euro di cinghiolo che io tanto i cinghioli qua ne ho ne ho finché ne ho fino alla fine dei tempi qua dei cinghioli perché ne avrò ne avrò una trentina qua dei cinghioli anche là sotto e anche qua dunque di conseguenza non ho problemi di andare a farmi inculare 50 euro del cinghiolo oltre al fatto che non spendo neanche un decimo di euro perché me lo sono fatto io a casa col trappanino logico che dovete fare in maniera di non rovinare niente e di essere abbastanza sicuri in quello che fate perché se solo avete la mano tremolante oppure avete paura oppure il giradischi lo considerate sacro e voi non potete toccarlo e vi rivolgete agli altri è logico che gli altri costano nel mio caso il carlo non costa nulla perché mi sono messo di fuori in giardino in un'ora ho fatto i fori con la punta lunga da 3 mm con il trappanini uno di qui e uno di là poi con la filierina ho fatto le panne interne poi ci ho messo le due viti ci ho calato che l'abbiamo visto insieme prima nell'altro video e ero bloccato adesso guardo con tutto l'insieme con tutta l'ambaradame insieme adesso guardo se è posizionato giusto altrimenti questo qui lo tiro fuori svito le viti sotto gli do una regolatina un po' più in su e un po' più in giù del perno in modo da recuperare quel millimetro in più o in meno dopo riblocco le viti e da questo momento qua in poi basta non c'è più nulla da farci dietro per sempre ecco non arrivate al punto di rovinare tutto quanto perché dopo la fine fa schifo al cacchio perché è inutile esaltarsi di avere il torrens e dopo ce l'avete smalgagnato io adesso comunque questo qui svito tiro via le basi bella verniciata di grigio topo opaco ovviamente dopo rimonto tutto e giradischi gli faccio i due ritocchini dove vanno fatti una bella pulizia generale e questo giradischi statemi bene che io me lo uso per sempre ciao a tutti